ciao a tutti ragazzi sono Ketty Mangraviti Master Crystal Nails e oggi scopriremo con questo video quali sono le nuove nuance per la stagione autunno 2021 dei nostri fantastici Royal Gel ciao a tutti ragazzi sono sempre io la vostra Ketty eccoci qui a scoprire queste quattro nuovissime nuance che Crystal Nails propone per la stagione autunno 2021 eccole qui sarà un autunno particolarmente hot come dicono gli inglesi gli americani perché insomma sono tutte tonalità particolarmente calde ecco qui abbiamo questo rosino per le amanti insomma dei colori particolarmente romantici e dopo un colore romantico come il rosa andiamo a proporre ovviamente un fucsia che non poteva mancare perché in autunno il fucsia si abbina a qualsiasi colore voi proponete e qui invece troviamo un rosso diverso dai 74258 rossi che avete lì conservati nel vostro cassetto credetemi è bellissimo è un colore nuovo che è questo cioccolato fondente oserei dire al peperoncino perché ha un tono particolarmente caldo bellissimo ancora non avevamo questo marrone ma andiamo a vedere la stesura di questo colore particolarmente chiaro che in realtà si presenta compattissimo notate che bastano veramente poche pennellate per ottenere un effetto compatto uniforme omogeneo un colore così chiaro insomma di solito non è semplice invece con questo nuovo colore lo sarà andiamo a vedere il fucsia ovviamente per la stesura del monocolore sto utilizzando il nuovissimo pennello key color eccolo qui questo è un fucsia stupendo scusate insomma la ripresa ogni tanto ho qualche difficoltà e andiamo qui invece a vedere questo nuovo rosso che si presenta diciamo con un grado un po più mattone rispetto ai rossi brillanti che vanno sull'arancio che vanno diciamo sul fragolo ecco questo è un veramente un bel rosso autunnale quindi consigliatissimo assolutamente e l'ultimo che secondo me è il più interessante che questo marrone caldissimo devo dire che a differenza di tanti altri brown si stende perfettamente in maniera abbastanza uniforme notate insomma io non faccio grandi pennellate ecco qui tutto in diretta tutte le novità crystal nails vi aspettano presso le nostre sedi oppure sul nostro sito online crystal nails punto it tutto e Grazie.